questa galla ecco gli sta in anima viva e che sta passando la macchina ma comunque i contadini a quest'ora fanno la siesta perché poi i lavori fanno la notte per ricaro la mattina presto e altrettanto la notte per raccogliere i prodotti articoli quelli agrari trappa un po appena appena leggermente il venticello comunque si è sempre caldo comunque lui è bello è appena alla montagna è pieno d'osseggini ecco un'altra macchina qua allo stop e ci sono solo indici